In collaborazione con Aereoporto Internazionale di Napoli, Carpisa, Yamamai, una produzione VG Channel. Aereoporto Internazionale di Napoli, Carpisa, Yamamai, una produzione VG Channel. Tuttissime patologie sono correlate strettamente al tipo di alimentazione che noi facciamo. Oggi con lei vogliamo parlare della bellezza e della salute, anzi più ancora che della bellezza dei nostri capelli e della nostra pelle. Ma perché mai i cibi hanno una correlazione con capelli e pelle? L'alimentazione è importante come noi sappiamo un po' per tutto, però nel caso di capelli e della pelle perché ovviamente noi guardiamo e quindi piacciamo e ci piacciamo. Quindi forse la prima cosa ad essere evidente sono proprio la pelle e i capelli. E sono tantissimi gli alimenti che possono far bene o possono anche nuocere alla pelle e ai capelli. Importante, noi sappiamo che i capelli in particolar modo sono costituiti da cheratina. La cheratina è costituita a sua volta da amminoacidi particolari e questi due amminoacidi quali sono in effetti la metionina, la cisteina, la lisina, sono contenuti maggiormente nei legumi. Ma legumi che per poter prendere tutto quello che è il carico amminoacidico di proteine vegetali sono necessariamente da complessare con i carboidrati. Quindi con la pasta, con il riso o anche con il pane o dei crostini. Soprattutto se sono integrali è ancora meglio così prendiamo anche qualche fibra in più che male certamente non ci fa. Ma ci sono delle patologie specifiche che possono colpire i nostri capelli e la nostra pelle che poi sono condizionati dall'alimentazione? Allora il non bere per esempio, il non bere porta ad una poca idratazione e la pelle è comunque un organo emuntorio. Abbiamo bisogno assolutamente di idratarlo per poter dare non solo la luminosità che tanto si vocifera, però proprio per il benessere i pori della pelle hanno bisogno di traspirare. Quindi un altro consiglio è non truccarsi troppo o truccarsi in maniera naturale. Nel senso che se si mangia bene, soprattutto fare un carico di vitamine o di carotenoidi, che comunque ci aiutano, le antiocianine, i carotenoidi si ritrovano nelle carote, si ritrovano in tutti gli alimenti di colore giallo, arancio. Ho l'antiocianine in tutti quegli alimenti che sono del blu, del violaceo, del rosso intenso come i frutti di bosco. Ecco, mangiando quotidianamente, cercando di non arrivare soltanto al periodo estivo, cercando di mangiare quotidianamente durante l'anno tutti questi alimenti anche molto colorati, vuol dire che contengono tanto beta carotene, tanta vitamina A e così ci aiutano a tenere in forma pelle e capelli. Anche se poi ci sono delle patologie importanti, che purtroppo colpiscono non soltanto la persona adulta, ma spesso, ahimè, anche bambini, come la dermatite seborroica, che è una patologia che colpisce sia il cuoio capelluto che la pelle stesa, soprattutto del viso, le sopracciglie. Diciamo che dal punto di vista tecnico dà anche un po' fastidio alla socialità, perché c'è questa esfoliazione con questo eczema molto arrossato e la formazione di queste crosticine che diventano già lastre per poi addirittura cadere. Quindi in quei casi i rimedi sono tanti, ma sostanzialmente c'è bisogno assolutamente di mangiare sano. Dottoressa, ce l'ho già accennato adesso in questa sua risposta, ma adesso si parla tanto, e devo dare atto, c'è anche una famosa pubblicità che ce ne parla, della dieta a colori. Quindi oltre alla dieta mediterranea, adesso dovremmo stare attenti anche alla dieta colorata? Sì, allora, in effetti dieta colorata è perché sulla tavola c'è bisogno di mettere tutti gli alimenti e che tutti gli alimenti possono avere il proprio colore. Cinque colori sono la base, qualcuno addirittura parla di sette colori come sette colori dell'arcobaleno, ma è importante dire che tra i diversi colori esiste anche il bianco. Il bianco poco se ne parla, però che cos'è che è bianco? Cos'è che dobbiamo mangiare che è di colore bianco? Per esempio le mele. Quando si pensa alla mele, si pensa alla mela rossa, alla mela gialla, alla mela verde, ma sostanzialmente dobbiamo vedere la polpa, che è di colore bianco. O anche l'aglio, l'aglio contiene allicina, l'allicina è un potentissimo antinfiammatorio e tra l'altro fa anche molto bene a pelle e capelli, l'allicina stessa, ci sono diversi anche lavori pubblicati in questo. Quindi per quanto possa dare fastidio per l'allitosi, però è qualcosa che invece fa bene anche a pelle e capelli. E poi come accennavamo prima, l'antiocianine è tutto ciò che è colorato. Il pomodoro, per esempio, che è un altissimo contenuto in licopene e questo licopene che è contenuto soprattutto nella buccia del pomodoro, quindi la parte più esterna del pomodoro. Io consiglio sempre di non mangiare pomodori troppo acerbi, ma quanto più sono maturi, tanto più il pomodoro è quello sano, perché prendiamo un grande carico di licopene, il licopene viene ad essere maggiore, quanto più il pomodoro è maturo perché viene attivato dal sole. Invece la solanina che dà quel colore verde al pomodoro, addirittura potrebbe dare dei problemi successivi, se visto che è implicata anche in diversi tumori, quindi il pomodoro necessariamente è maturo. Se ci facciamo del sugo perché lo andiamo ad unire all'olio d'oliva o addirittura anche al basilico, possiamo avere un mix perfetto perché il licopene possa espletare tutta la sua funzione di antiossidante e protettivo per la pelle e a questo punto anche per i capelli. Oppure ancora lì ritroviamo le mandorle, la frutta secca, ma un'altra cosa importante da dire, per esempio il miglio, perché il miglio ha un altissimo contenuto in ferro e i capelli hanno bisogno necessariamente non solo di essere costituiti dalla cheratina, ma hanno bisogno anche di minerali importanti, come per esempio il ferro, quindi mangiare un po' di miglio certo fa bene. E ancora qui vediamo delle bevande energetiche. Le bevande energetiche che possono essere demonizzate per altri aspetti, in questo caso invece contengono taurina. La taurina si pensava venisse presa ed estratta, perché veniva presa ed estratta dal testicolo di toro, dalla forza e quindi è sempre stata identificata come bevanda energetica, ma sostanzialmente la taurina è un amminoacido solforato. Noi abbiamo detto prima che gli amminoacidi come la metionina, la cisteina, la lisina sono necessari per pelle e capelli, in questo caso anche la metionina ci aiuta tantissimo perché la cheratina del capello possa essere veramente forte ed evitare una fase di caduta del capello anche se fisiologica. Dottoressa Esposito, ma io lì vedo anche delle albicocche e so che anche quelle sono una sorta di panacea. L'albicocca fa benissimo la pelle perché ha un altissimo contenuto di vitamina E, quindi come antiossidante, ma non solo, aiuta proprio anche a prevenire problematiche relative a pelle e capelli. Tant'è che esistono oli all'albicocca, esistono creme all'albicocca, ma se la mangiamo così va benissimo lo stesso e fa parte di quel giallo-arancio dei colori della tavola, come anche le arance o i limoni o ancora le carote. Ma c'è una cosa da dire che non dobbiamo sottovalutare. Tra i rimedi naturali esistono i semi di lino. I semi di lino sono veramente un tocca sana per i capelli e per la pelle. L'olio di semi di lino, tra l'altro, è un olio vegetale che può essere tranquillamente utilizzato a crudo sui nostri cibi e che può dare un aiuto in più alla purificazione della pelle. Dottoressa, scusi, ma siamo in chiusura di trasmissione, ma ho una curiosità. Se vedo bene, sì, mi sembra proprio di sì, lì c'è un barattolino con dell'ortica? Sì, sì, l'ortica. L'ortica è un purificante. È un purificante che viene utilizzato soprattutto per i capelli grassi, viene utilizzato per la pelle grassa, quindi fare un infuso di ortica e successivamente, ecco, lavarsi i capelli o lavare anche la pelle, un infuso che può stare tutta la notte, almeno otto ore, mettere ad infondere delle foglioline di ortica, fa benissimo. Sì, sì, l'ortica.